Ben trovati all'informazione di TRMH24 in apertura La Cronaca, in particolar modo torniamo a parlare della sparatoria avvenuta ieri nel quartiere San Paolo di Bari che ha portato alla gambizzazione di un 23enne. Secondo le prime indiscrezioni il ragazzo sarebbe stato colpito mentre effettuava consegne a domicilio per una pizzeria del quartiere. Ascoltiamo tutti i dettagli. Un colpo di pistola che ha gambizzato un ragazzo di soli 23 anni nel pomeriggio di ieri verso le 19 si è verificata una nuova sparatoria a Bari in via Sicilia tra il quartiere San Paolo e la zona Cecilia che appartiene al comune di Modugno. La vittima è Vanni Zonno classe 2001 che ha riportato una ferita alla gamba che fortunatamente non lo ha messo in pericolo di vita e che è stato trasportato nel vicino pronto soccorso dell'ospedale San Paolo. Sono ancora in corso le indagini della polizia per ricostruire la dinamica e il movente della sparatoria. Secondo gli inquirenti non dovrebbe trattarsi di un agguato in ambito criminale. Il 23enne infatti non sarebbe pregiudicato e non avrebbe legami con clan del capoluogo pugliese. Secondo le prime indiscrezioni rilasciate dalla polizia che sta effettuando dei rilievi con i colleghi della scientifica Zonno lavorerebbe per una pizzeria poco distante dal luogo dove si è verificata la sparatoria occupandosi delle consegne a domicilio. Potrebbe essersi trattato dunque di una ritorsione dopo una lite stradale avvenuta con il conducente di un altro veicolo. E ancora la cronaca è stata ridotta la pena di reclusione per Loris Ottolini, ritenuto il presunto responsabile della violenza sessuale nei confronti di due turiste francesi e in particolare l'episodio risale all'8 agosto del 2022. Ridotta di otto mesi la condanna di reclusione nei confronti di Loris Ottolini, condannato in primo grado con rito abbreviato a sette anni e otto mesi, riconosciuto come il colpevole di una duplice violenza sessuale aggravata, sequestro di persona, lessioni e rapina nei confronti di due turiste francesi. La difesa ha rinunciato a quasi tutti i motivi d'appello e la Corte, dopo ora in Camera di Consiglio, ha ridotto la condanna confermando la responsabilità al ragazzo. L'episodio risale all'8 agosto del 2022, quando le due ragazze francesi si trovavano in Puglia per una vacanza post-diploma. Quella sera chiesero indicazioni ad Ottolini per trovare una tabaccheria nelle vicinanze, incontrato come passante per strada, che dopo aver offerto di accompagnarle, le invitò a casa per bere qualcosa insieme. Di lì l'alcol e qualche gioco erotico si trasformò in una brutale aggressione di circa un'ora, così come ricostruito dal PM. Il ragazzo, all'epoca dei fatti, 21enne, chiuse la porta d'ingresso a chiave e colpì al volto più volte una delle due ragazze, costrette poi a sottomettersi agli abusi sessuali. Le avrebbe infatti ripetutamente violentate a turno, fino a quando, in cambio di 90 euro, le avrebbe lasciate andare. Le due poi furono soccorse e portate in ospedale, ricevendo cure e assistenza anche psicologica. Ottolini fu arrestato a distanza di poche ore dall'accaduto, rimasto in carcere fino all'agosto del 2023. Oggi si trova ai domiciliari, dove sconterà la pena ridotta di otto mesi e dove, per due volte a settimana, avrà la possibilità di uscire e frequentare un centro d'ascolto come volontario. Nella pagina politica l'incontro in Piazza Foggia, ieri sera per Michele Santoro, candidato al Parlamento europeo. Le guerre peggiorano le condizioni di vita di tutti, ristretti i gruppi finanziari controllano il mondo, ha dichiarato. Perché lei dice una pace necessaria? Per chi è necessaria? Le notizie di oggi sono due. Una è che Putin avrebbe fatto trapelare la necessità di un armistizio e quindi la possibilità di interrompere le azioni militari. E la seconda, che viene da Orban, è che invece l'Europa sta preparando la guerra. Quindi la pace direi che è abbastanza necessaria, perché senza la pace le condizioni di vita delle persone peggioreranno tutte, come stanno già peggiorando in ragione della guerra. Non potremo affrontare le grandi sfide che abbiamo di fronte, a cominciare da quella climatica, e non potremo riprendere il percorso di una spesa sociale vicina all'esigenza dei cittadini. Il vicario in Terra Santa, ha detto ieri, sono qui ospiti a Foggia, è una guerra dove vanno al massacro tante persone per gli interessi di poche persone. E' assolutamente così, perché in realtà ormai il mondo è controllato da una parte da autocrati e dall'altra parte però da ristretti gruppi finanziari che sono molto più potenti dei politici. Oggi questi gruppi fanno il bello e il cattivo tempo. Biden e Trump sono quasi irrilevanti rispetto alla forza che hanno assunto le grandi concentrazioni finanziarie. Quindi se oggi lei vede un Netanyahu che si può rifiutare di adottare i provvedimenti che gli suggerisce Biden, che pure è il suo principale sostenitore, è perché Netanyahu sa benissimo che sopra di Biden ci sono interessi molto più grandi di Biden. Adesso ci spostiamo in Basilicata, dove Coldiretti Basilicata ha inviato una lettera al Presidente Bardi chiedendo in particolare un tavolo emergenziale straordinario per affrontare la crisi idrica che sta colpendo tutta la Regione. La richiesta include in particolare misure per il riconoscimento dello Stato di calamità e la gestione delle risorse idriche in maniera complessiva. Ascoltate. La Coldiretti Basilicata ha formalmente richiesto l'istituzione di un tavolo emergenziale straordinario per affrontare la grave crisi idrica che sta colpendo la Regione. In una lettera indirizzata al Presidente, Vito Bardi, e all'assessore all'agricoltura Alessandro Calella, il Presidente dell'Organizzazione Agricola, Antonio Pessolani, ha evidenziato l'urgenza della situazione e la necessità di interventi immediati. I cambiamenti climatici, scrive Pessolani, e la conseguente crisi idrica sono ormai argomenti quotidiani di cronaca. La drammaticità degli eventi calamitosi ha provocato danni irreparabili alle colture cerealicole e foraggere per gli allevamenti zootecnici, rendendo necessarie iniziative per il riconoscimento dello Stato di calamità e la determinazione di compensazioni economiche per gli agricoltori. Pessolani ha sottolineato i rischi concreti e preoccupanti per le colture intensive e gli impianti arborei ancora in atto, che richiedono una gestione straordinaria sotto la direzione della Presidenza dell'Aggiunta regionale. Ha inoltre richiesto un'accorata ricognizione, monitoraggio e gestione delle risorse idriche disponibili negli invasi della Regione, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica della Basilicata. Nella lettera, Pessolani ha criticato la ritardata manutenzione degli invasi esistenti, nonostante le risorse economiche disponibili, e ha ribadito l'importanza di affrontare il tema degli invasi con soluzioni concrete e immediate. La Col di Retti da anni ha posto il tema degli invasi al centro della propria agenda, ma il piano invasi non ha ancora trovato la giusta attenzione da parte dei diversi livelli decisionali, ha concluso. L'appello di Col di Retti mira a sensibilizzare le istituzioni, a promuovere interventi efficaci per garantire la disponibilità di risorse idriche sufficienti, salvaguardando così il settore agricolo della Regione. E a Potenza la giornata dello studente, organizzata con l'intento di lanciare un segnale di inclusione, di sensibilizzazione sociale, promuovendo in particolar modo l'integrazione, offrendo opportunità di crescita e partecipazione proprio ai giovani. Ascoltiamo le interviste raccolte. Che si aspetta da questi giovani? Mi aspetto che aprano il cuore alla speranza e mi aspetto che siano vicini, siano vicini a tutte le istituzioni, quelle educative, quelle politiche, sociali e alla Chiesa in modo particolare, perché possiamo camminare insieme. Un tavolo comune ci mette insieme per prospettive che sono belle e grandi. Io mi sento molto legato già a questa città, alla Basilicata, e voglio camminare insieme con tutti voi. Significa lavorare meglio, significa con loro confrontarsi, significa avere la possibilità di riuscire a misurare, attraverso l'esperienza vissuta dai più giovani, misurare anche le proprie azioni, quello che poi ogni giorno i più anziani responsabili dei livelli istituzionali debbono poter tradurre quotidianamente in azioni concrete. Non c'è possibilità oggi di cambiare favorevolmente la società, ma è sempre stato così in verità, se non c'è un dialogo e un confronto giornaliero e quotidiano con le generazioni più giovani. E' per questo che una giornata come questa non è solo ed esclusivamente dedicata agli studenti, a loro principalmente, ma è una giornata in cui ci si confronta con i livelli generazionali tutti quanti e quelli istituzionali anche. La libertà è proprio nella partecipazione, e poi vedere tutti questi ragazzi è sempre una gioia. ragazzi che sono presi carico del loro futuro, quindi insomma è importante, è molto importante. Prosegue in Basilicata Play Games, a Matera i giochi all'insegna dell'inclusione che stanno coinvolgendo anche la provincia e oggi in particolare l'inizio delle gare. E' in pieno svolgimento la Play Games 2024, la rassegna sportiva multidisciplinare organizzata da Special Olympics Italia che coinvolge atleti con e senza disabilità intellettive. L'obiettivo è sostenere gli atleti, abbattere barriere e pregiudizi e promuovere l'inclusione sociale creando sinergie tra accompagnatori, famiglie e territori ospitanti. Per il secondo anno consecutivo la Basilicata è scelta come sede della tappa del centro-sud dell'evento, promosso dal Team Special Olympics Basilicata con il sostegno del Comune di Matera e il patrocinio della Regione Basilicata, PT Basilicata, Provincia e Comune di Bernalda si svolge fino al 26 maggio. A Matera le competizioni presso il Camposcuola di Atletica Leggera, Primo Sinno per Atletica e Bocce, al Palasassi, Salvatore Bagnale e per il nuoto a metà ponto di Bernalda presso il Touchdown si svolgono le gare di bowling. Partecipano 300 atleti provenienti da 11 regioni italiane, Abruzzo, ovviamente Basilicata, Campania, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria. Le delegazioni, composte da 300 persone tra accompagnatori e familiari, sono accolte in un'atmosfera straordinaria grazie anche al contributo dei volontari di Open Culture 2019 per garantire un'esperienza indimenticabile anche dal punto di vista culturale e turistico. E ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.